Il trailer di Megalopolis Di Francis Ford Coppola Io potrei aver sburrato Anch'io Per me è proprio Non mi capita spesso Ma ho visto il trailer e ho pensato È solo un trailer Ma mi sembra di aver visto il trailer di quello che potenzialmente è un capolavoro Ovviamente non lo posso dire Ma l'effetto che mi ha dato è quello Quindi non sto dicendo che il film sarà un capolavoro Ma ho avuto Quell'effetto di quando vedi i primi trailer Di Mad Max Fury Road Questo secondo me rimane subito I colori, la fotografia La follia delle immagini Con questo Il cast è mostruoso Sembra incredibile visivamente Come hai detto tu Una fotografia Da lasciare a bocca aperta Ogni inquadratura sembra un quadro Sì, sì, sono d'accordissimo Ma non solo Cioè Adam Driver Shia Leboeuf Giancarlo Esposito Dustin Hoffman C'è un cast che è spaventoso Poi non si capisce niente della storia Ma le statue giganti che si siedono in mezzo alla storia Con queste architetture che sembrano contenere Tutte le architetture più essenziali della storia del cinema C'ho visto Metropolis, c'ho visto Matrix, c'ho visto Blade Runner C'ho visto Ben Hur C'era quella scena con la corsa delle bighe C'è di c'è Tra l'altro si chiama Megalopolis a Fable Come a sottolineare che sia una sorta di fiaba metropolitana fuori di testa Non lo so, questo si è venduto parte del vigneto per farsi questo film Per me è assurdo Che il regista dei primi due Il Padrino Di Apocalypse Now E anche del terzo Dei primi due Il Padrino Di Apocalypse Now No vabbè anche del terzo, sì lo so A me non fa impazzire ma è comunque un film della Madonna Però era per fare la gag sul fatto che insomma il terzo un po' non esiste No non è vero, è un film con dei problemi Ma sicuramente è un gran bel film Però un regista come lui Che ha praticamente fondato insieme ad altri la New Hollywood Si è finito a doversi vendere il vigneto Per prodursi un film Che poi stando al ritmo con cui ha fatto film Coppo negli ultimi anni È anche plausibilmente l'ultimo che vedremo suo A meno che proprio non sbanchi a botteghino Sì probabilmente sia Non credo che sbancherà il botteghino Sbaglierò Comunque è in concorso a Cannes Lo proiettano domani Io francamente mi aspetto qualcosa di roboante Io so già che arriveranno le prime recensioni Che ne parleranno come gli instant cult Instant capolavoro Ho questa sensazione Speriamo perché i produttori avevano parlato di un mezzo disastro Che era una roba impresentabile nelle sale Che non aveva senso distribuirlo Erano stati di una cattiveria disumana Il che mi fa pensare che sarà un capolavoro Esatto Sono produttori Quindi loro lo guardano da un punto di vista Vorrei ricordarti che la stessa cosa la dicevano del padrino Vorrei ricordare che Discoscianti applausi per Batman v Superman Poi sì E poi tu hai letto la recente graphic novel Cioè ci hanno inviato questa graphic novel Che è Le guerre di Lucas Che spiega Sì ma è splendida Io ho pianto Ti dico questa cosa Una bellissima graphic novel Che ti parla Della creazione di Star Wars E io ho goduto Quando è arrivato alla fine C'è scritto continua Quindi l'idea è di fare altri volumi Che parlano della creazione degli altri Star Wars La Fox Queste sono cose che già si sapevano Per l'amor di Dio Però Questo graphic novel mi ha ricordato La Fox tenne Lucas Appeso ai coglioni Per tre anni Senza un contratto Perché non credevano nel film Non ci credevano I produttori Ma anche gli amici Ma anche lo stesso Coppola In realtà Se vogliamo Disse a Lucas Ma che cazzo stai facendo Nessuno L'unico che ci credeva Era Steven Spielberg Era l'unico Che scommise Su Star Wars E infatti fece bene Era l'unico visionario Che neanche Coppola Riuscì a capire I potenziali di Star Wars Quindi Solitamente Quando sento dire Quando sento parlare Di registi come questi Del disastro Secondo me È un po' difficile Che sia vero Vedremo Vedremo Io Lo attendo in gloria Non si capisce un cazzo E ragione E io sono contento Io non voglio sapere Io per questo film Non voglio sapere nulla Poi Ripeto A me fa piacere Vedere Driver Che si è ritagliato Questo spazio Nei film de sé È un po' meno presente Di prima sulle scene Ma non è che ha smesso di lavorare Secondo me è lui Che si è rotto il cazzo Perché ricordo Che lui non parlò In maniera lusinghiera Della sua esperienza Nei film di Star Wars Perché lui diceva Che no Lui diceva Che si trovava male Con le major Quindi io credo Molti dicono Eh ma Driver ormai è finito No Semplicemente Sta cercando di lavorare Cioè Andate a vedere Con chi ha lavorato Driver Negli ultimi film Scorsese Baumbach Coppola Ha fatto Mann Perché comunque Ricordiamoci che In Ferrari Era lui a interpretare Ferrari Vorrei ricordare questa cosa Quindi A me sembra che comunque Lavori ancora Ma lavora in film Di un certo spessore Non lavora più Nei blockmasteroni Perché l'ultimo blockmasterone In cui ho lavorato Vorrei ricordare Che era 65 Non me lo ricordo Come di un gran primo Sì poi blockmasterone Aveva un budget piccolino In realtà Anche quello Sì Scusa Mi Perdonami Mi Mi corrego Commercialata Più che blockmasterone Commercialata Sì sì Infatti Era un po' strano Vederlo Era un po' strano Vederlo In quei panni Sì sembrava il film Il film Che un attore come lui Quelli sono i film Che fanno Quando devono pagare le bollette Quando c'era una scadenza imprevista Dice Cazzo Aspetta che mi faccio il banco Matt Capito Spike Lee Sì beh Spike Lee già qualche anno fa Ci ha lavorato Però insomma Era in trattativa per Mr. Fantastic Io sono contento Che non abbiano preso come Mr. Fantastic No no Io sono contentissimo Lasciategli fare i film con Coppola Per favore Lasciategli fare i film con Michael Mann Io Lo vedo più come un attore Che deve Fare un percorso È diventato il feticcio di Jarmusch Lasciategli fare quella roba lì Che secondo me È la sua dimensione Sbaglierò